Per stabilire se due vettori sono fra loro paralleli, andiamo a verificare se hanno le componenti a 2 a 2 proporzionali. Per stabilire se due vettori sono perpendicolari fra di loro, calcoliamo il prodotto scalare. Se il prodotto scalare è uguale a zero, allora i due vettori sono fra loro perpendicolari, altrimenti non sono perpendicolari. Consideriamo il vettore p e il vettore q e calcoliamo il prodotto scalare, p per q. Facciamo il prodotto componente per componente, ovvero 4 per 3 più 2 per meno 6. Quindi, 4 per 3 è 12, 2 per meno 6 è meno 12, il prodotto scalare è uguale a zero. Questo ci permette di concludere che p è perpendicolare a q. Siccome siamo nel piano cartesiano, p e q sono vettori a due componenti, possiamo disegnarli e vedere che sono fra loro perpendicolari. Allora, p a componente 4, 2, q a componenti 3, meno 6. E notiamo che i vettori sono fra loro perpendicolari. Consideriamo adesso il vettore a e il vettore b, vettori a tre componenti. Calcoliamo il prodotto scalare a per b. Componente per componente, 1 per 6 più meno 1 per 0, che fa 0, più meno 2 per 3. Anche in questo caso il prodotto scalare è uguale a zero e quindi concludiamo che il vettore a e il vettore b sono perpendicolari. Cambiamo leggermente l'esercizio, consideriamo i vettori c e d e calcoliamo il valore che deve assumere il parametro reale k affinché il vettore c e il vettore d siano perpendicolari. Per fare questo esercizio partiamo dal calcolo del prodotto scalare componente per componente. 2 per k più 3 per 5 più 1 per meno 1. Questo prodotto è uguale a 2k più 14. Il prodotto scalare c, scalare d, è uguale a zero se 2k più 14 è uguale a zero. Risolviamo questa equazione in k e otteniamo il valore di k uguale a meno 7. Quindi concludiamo che il vettore c è perpendicolare al vettore d se k è uguale a meno 7. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.